In Valdaone anche per vedere alcuni aspetti interessanti come il fenomeno della marmita dei giganti. Cos'è la marmita dei giganti? Non è nient'altro che in un particolare plesso di rocce, che sono facilmente erodibili, il fiume scava queste rocce, ma non le scava in maniera lineare. Le scava trasportando del materiale dei depositi in maniera circolare, dove magari l'ansia del fiume crea una curva, crea una torsione. E lì, nei millenni, questi depositi presenti nell'acqua levigano, levigano, mollano queste rocce, fino a creare appunto questo gigantesco pentolone che si chiama la marmita dei giganti. Questo è il fiume chiese, quasi alla sua sorgente, Valdaone.